Voglia di spensieratezza e di vacanze. Dopo le chiusure, il lockdown e il coprifuoco, la speranza è quella di poter trascorrere un'estate caratterizzata da una vera ripartenza. Mare, montagno, collina non ha importanza. Ciò che conta è viaggiare o anche semplicemente poter organizzare delle gite fuori porta, Covid permettendo. Mascherine, gel e distanze ci faranno compagnia ancora per un po', ma inizia già l'attesa per un nuovo viaggio. Richieste ce ne sono, diciamo più in Italia che all'estero momentaneamente. È conveniente per notare adesso? Sì, adesso come adesso ci sono molte agevolazioni senza considerare il fatto che c'è la possibilità con la maggior parte dei tour operator di annullare fino a sette giorni prima della partenza. Intanto l'Europa ha annunciato per il primo giugno il Green Pass, certificato verde e digitale, un documento sanitario comune a tutti gli stati membri che funzionerà tramite un'applicazione e servirà a dimostrare che la persona che viaggia è stata vaccinata contro il Covid-19, che ha fatto il tampone con esito negativo o che ha contratto il virus ed è guarita negli ultimi sei mesi. Gli ambasciatori hanno assicurato che non si tratta di un vero passaporto nel rispetto del principio di non discriminazione, in particolare nei confronti delle persone non vaccinate che dovranno comunque poter viaggiare. Quali sono le destinazioni che vanno per la maggiore? Per la maggiore sicuramente l'Italia, la richiesta per quanto riguarda il discorso Italia, perché comunque si sentono più vicino a casa anche per un eventuale rientro di emergenza e per quanto riguarda l'estero e le crociere. Sicuramente le crociere sono le più richieste perché attualmente prevedono un protocollo di sicurezza molto ma molto accertato, tra virgolette, dove prevede un tampone prima di partire, uno a sorpresa durante la settimana e uno prima di scendere dalla crociera. Quindi una volta saliti a bordo si è in una bolla protetta. E poi il discorso della quarantena. Esatto, la quarantena attualmente per quanto riguarda la crociera o l'Italia naturalmente non è prevista. Dall'estero sì, quindi è un po' difficile riuscire a programmare un viaggio all'estero sapendo che poi devi fare 14 giorni di quarantena e rientro. Si programmano anche i viaggi di nozze? La richiesta c'è perché comunque i matrimoni ha un complice il fatto che l'anno scorso molti non si sono più sposati e l'hanno spostata quest'anno. L'idea c'è, le richieste ci sono anche per viaggi da sogno come si facevano due anni fa prima del covid. È da vedere se riusciamo a farli. E poi vi aspettate i numeri degli anni scorsi? Meglio dell'anno scorso di sicuro, speriamo di più. Cioè vogliamo viaggiare? Sì, anche noi stessi che siamo nel settore non vedi allora di poter ripartire. Cioè l'idea di riprendere un aereo sembra un sogno quasi.